negli anni 80 c'era un programma che si chiamava ottava nota condotto dal funambolico richard benson che andava in onda una o due volte a settimana su tv a 40 in un'epoca pre internet dove era difficilissimo avere delle informazioni per noi chitarristi in erba o semplicemente per gli appassionati di musica era un programma assolutamente importante perché richard portava dei chitarristi ma non solo chitarristi della musica in anteprima una musica che altrimenti non avremmo ascoltato non avremmo conosciuto quindi era veramente importante a parte quello lui dava spazio anche ai chitarristi italiani ho ritrovato alcune delle registrazioni che feci all'epoca col videoregistratore della trasmissione proprio quando c'erano dei chitarristi ospiti ho deciso di condividere con voi questi bei ricordi dell'epoca quindi buona visione pericolico richard Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.